I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare... Miramino! Beffa l'estrema difensore! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. E' già la sua seconda esultanza personale, ma non è detto che sia l'ultima. After 51 minutes is number 19. Miramino!